L'amministrazione comunale ha preso in giro la città dell'Aquila ed è gravissimo che lo abbia fatto sulla pelle degli studenti al Mancini Pensiero in duplice veste di consigliere comunale preside sulla situazione dell'edilizia scolastica in città. L'amministrazione comunale non ha fatto nulla a Tuona. Hanno preso in giro la città per un motivo semplicissimo. Avevano scritto nel programma che al primo di settembre tutti gli alunni sarebbero stati messi in edifici sicuri e non sono state manco verificate gli edifici dove gli alunni tuttora sono collocati. Non è stato fatto niente, nessun contratto con esterni per la verifica della vulnerabilità sismica degli undici edifici rimanenti. Cialente ha fatto fare una determina dirigenziale a dicembre 2016, neppure i risultati di quelle dieci scuole oggi sono disponibili. Per quanto riguarda le scuole superiori, tanto sbandierato l'abbattimento e la ricostruzione del liceo Cotugno e la sistemazione temporanea nell'edificio dell'ex OPTMS e gli studenti del liceo Cotugno sono dislocati su cinque sedi e così probabilmente rimarranno per tutto quest'anno scolastico. Il consigliere ha accusato l'amministrazione attuale di fare propaganda politica anche con la provincia. L'auspicio per Mancini è che quest'ultima, avendo fondi a disposizione, risolva una volta per tutte la situazione. Speriamo che perlomeno i 7 milioni e 500 mila euro disponibili che la provincia ha in cassa siano utilizzati per mettere in sicurezza l'edificio di Pettino così perlomeno dal primo di settembre gli alunni avranno la possibilità di non perdere completamente la loro identità e tornare nella scuola nell'edificio di Pettino.